Questo programma è offerto da Ekeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.ekeo.it Buonasera amici di OnRaceTV e benvenuti a tutti in questa straordinaria puntata tutta dedicata al mondo delle due ruote. Infatti questa sera a grande richiesta vi parleremo della blasonata serie Moto Estate che accenderà il semaforo verde per la stagione 2023. In nostra compagnia qui negli studi di GoTV moltissimi super ospiti che ci racconteranno un po' questo inizio di stagione che come detto sta per incominciare. Al mio fianco la mia fida navigatrice, questa sera rider d'eccellenza, è con noi la nostra Noemi Bertani. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti. È arrivata la primavera eh? Eh fa caldo, si sta bene qui negli studi di GoTV, è arrivata anche l'estate. Bene bene, non solo la primavera ma già l'estate con la nostra Noemi che ha un outfit molto aggressivo come aggressiva alla moto che abbiamo qui oggi. Oggi proverò anche questo, ormai le ho fatte tutte. Bene, ma andiamo a presentare i nostri ospiti, è con noi il patron della serie Moto Estate, è con noi Bruno Sandrini. Buonasera. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti. E poi ancora un pilota, nonché team manager della squadra Atomico, Andrea Tomio. Ciao a tutti. E poi il pilota che quest'anno metterà il suo sedere su questo bolide Ducati, naturalmente della squadra Atomico, è con noi Daniele Galloni. Ciao a tutti. Buonasera. E come detto a brevissimo ripartirà la stagione 2023 del trofeo Moto Estate, ma prima di parlarvene vorrei chiedere al suo patron Bruno Sandrini come è nata l'idea della serie, Bruno? Guarda l'idea l'hanno avuta prima di noi degli appassionati tanto tempo fa, perché la serie nasce nell'86, grazie a un motoclub che fece muovere i primi passi sul appena nato circuito di Varano alla serie. Venne presa dal motoclub Ducale, Franco Del Monte fu il presidente storico e ci ha lasciato appunto qualche anno fa, nonché il padre del mio attuale socio. E dal 2012 siamo passati noi alla conduzione, il campionato era un po' precipitato nel dimenticatoio, erano diventati pochi piloti, c'era bisogno di una grande trasformazione e attualizzazione. L'abbiamo ripreso dalle ceneri sostanzialmente e oggi è un campionato che ha visto l'anno scorso partire nella gara di maggior presenza oltre 230 piloti. Complimenti, complimenti Bruno. Ecco Bruno, come detto il trofeo Moto Estate nasce nel lontano 1986, ma cosa si prova ad essere oggi al timone di un pezzo di storia del mondo delle due ruote? Sicuramente tanto orgoglio perché il testimone che abbiamo raccolto io e Filippo è un testimone di persone che avevano prima di tutto una grandissima passione e soprattutto una volontà di ferro nel rendere il motociclismo fruibile a tutti. Noi abbiamo tenuto questo light motive nella nostra organizzazione e lo abbiamo semplicemente attualizzato cercando di rendere le corse di moto proprio come ci hanno battezzato la superbike low cost. E appunto come detto la promozione e il supporto organizzativo del Moto Estate affidato ormai dal 2012 all'SH Group di Bruno Sandrini e Filippo Del Monte che iniziano il loro lavoro proprio con l'obiettivo di riportare il trofeo ai fasti dei primi anni 2000 quando nel Moto Estate correvano pensate tra i piloti più importanti del centro nord. Beh ce l'avete fatta. Diciamo che per la situazione attuale ce l'abbiamo fatta ma siccome siamo ambiziosi perché siamo competitivi forse anche più dei nostri piloti. Non vi accontentate. Noi vorremmo vedere sempre più giovani al via perché il nostro obiettivo e mi fa molto piacere che ci sia Daniele stasera qui con noi è quello di ringiovanire le griglie di partenza e trasmettere un po' della nostra passione alle giovanissime generazioni che rispetto a noi fanno più fatica ad approcciarsi al motociclismo proprio perché noi usevamo le moto sulla strada come mezzo di trasporto. Oggi ce ne sono molte meno. Ecco gare combattute tirate fino alla fine. Un grandissimo tasso di competitività in ogni griglia di partenza del trofeo Moto Estate fanno sì che questo campionato sia molto apprezzato sia dei piloti che dagli addetti ai lavori Bruno. Assolutamente sì. Il nostro campionato è stato partecipato da piloti che sono ormai permanent rider da anni ma è utilizzato anche come banco prova da piloti che corrono nel campionato del mondo. Faccio un esempio. Lo scorso anno in tanti i protagonisti del Mondiale 300 sono venuti ad allenarsi al Moto Estate. Abbiamo avuto al Via due stagioni fa un ex pilota MotoGP. Abbiamo avuto Daniele che ha combattuto con tanti piloti che hanno fatto campionati del mondo, campionati europei, campionati italiani. Quindi diciamo spaziamo dall'amatore che vuole togliersi la soddisfazione di fare le prime gare fino a piloti che hanno un palmaresse importante. Ecco questo che ci hai detto sicuramente è preambolo di una grande palestra per un Daniele Galloni della situazione, confrontarsi anche con piloti che fanno categorie superiori. Si dice di solito che si impara dai più forti. Io penso che per i ragazzi che ad esempio due anni fa si sono trovati al Via Bradley Smith che scendeva da una MotoGP e per la filosofia del Moto Estate, quindi il puro divertimento veniva dall'Inghilterra a correre le gare di Moto Estate in sella una 300 sia stato motivo di vanto. Anzi chi ha combattuto con lui dava il 120% per cercare di arrivare davanti. È uno stimolo in più. Ma qual è secondo Bruno Sandrini il segreto del successo del trofeo Moto Estate? Sicuramente è duplice. La prima parte è legata alla formula. L'attualizzazione della formula è stata quella di proporre un trofeo che si svolgesse su sole due giornate. Questo permette ai giovanissimi di non perdere giornate di scuola, a chi lavora di non perdere giornate di lavoro, di condensare rispetto agli altri campionati che impegnano quattro giorni la spesa, il tempo, il tempo che viene tolto dalla famiglia in un solo weekend. E questo è piaciuto a tanti, tantissimi che non hanno la disponibilità o temporale o economica o semplicemente amano confrontarsi su autodromi di categoria nazionale e che hanno cominciato a passare dalle prove libere alle gare di Moto Estate. Abbiamo fatto debuttare tantissime persone e quindi la formula. La seconda cosa è l'attenzione al mercato del motociclismo. Noi cerchiamo di innovare e quindi costantemente abbiamo proposto formule che permettessero a piloti che non erano ancora piloti licenziati di avvicinarsi al mondo delle competizioni. Tre categorie che sono trade union tra le prove libere e le competizioni che permettono di avvicinarsi senza venire spaventati dal doversi confrontare subito con dei mostri sacri. E per ultimo direi l'atmosfera perché a notte estate c'è l'atmosfera della, io la chiamo la sagra della bracciola, ma in senso positivo, nel senso che una volta smesso il casco, smessa la moto, la sera sotto le tende, sotto le ospitali, c'è proprio il giro, il turnover tra i vari gruppi, si vive, si mangia insieme, insomma si passa un weekend positivo non solo in pista. Bene, bene, bene. Ecco Bruno Sandrini ci ha appena raccontato storie e aneddoti di questa bellissima realtà che è il moto estate. Tra un po' ti ridaremo la parola perché ci dovrai raccontare tutte le news 2023 del campionato che è prossimo a partire. Ma ora passiamo la parola ad Andrea Tomio che è il team manager della squadra Corsi Atomico. Ma prima di parlare del presente vorrei fare un salto nel passato e vorrei chiedere proprio a te Andrea di raccontarci quelli che sono stati i tuoi successi da pilota, tra cui ricordiamo la conquista della Race Attac 600 nel 2017, il CRV Piemonte nel 2019 e la Stock 600 nel 2022. Oltre ad essere stato uno dei dominatori open che ti ha fatto ottenere nel 2018 il secondo posto. Raccontaci un po'. Esatto sì, sono stati un po' di anni in pila dove appunto quando sono entrato nel circuit del moto estate diciamo che non si può più uscirne perché appunto come diceva Bruno che è la realtà dei fatti, c'è un clima di amicizia, io non vedo l'ora di andare giù anche alle prove libere alle gare proprio perché ritrovi tutti i tuoi amici, ritrovi la compagnia, stacchi la spina un po' dalla solita routine e tutto e quindi questa è davvero la parte migliore e quindi questo è quello che ci avvicina un po' tutti. Tra l'altro sappiamo che arrivi proprio da una famiglia appassionata di moto e di corse. Sì 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 esatto, sì mio papà ha sempre corso in moto, mio zio anche lui ha sempre corso in moto a livelli anche al mondiale, a livelli abbastanza alti e quindi dai... Ci hanno trasmesso la passione. Mi hanno trasmesso la passione fin da bambino con le mini moto, poi ecco all'epoca non c'erano tutti i passaggi che ci sono adesso tipo mini GP eccetera, noi facevamo mini moto 125, quindi il salto era un po' alto più che altro per le dimensioni della moto. Certo. E quindi ecco così. Insomma ti sei tolto tante soddisfazioni. Sì un po' sì un po' sì. Ma sappiamo che te ne vuoi togliere ancora. Ma ancora ancora esatto, ancora ancora sto andando. Bene bene. Ecco dall'anno scorso per te è un doppio impegno perché oltre a fare il pilota hai voluto aprire un team tuo dal nome Atomico. Adesso c'è qui una moto che parteciperà al campionato Moto Estate 2023. Quest'anno ben cinque piloti sotto la tua struttura. Insomma un bel impegno. L'impegno sì sicuramente è grande ma abbiamo già fatto un po' di prove, tutti i test fino adesso e riusciamo a gestire la cosa senza grandi problemi. Certo. L'impegno chiaramente non è importante. Certamente ci sono parecchie persone che collaborano, che lavorano dietro perché insomma è una cosa interessante da fare. Poi a me piace moltissimo essendo proprio io per primo, tipo lunedì eravamo a girare assieme appunto con i ragazzi, anche con Daniele ho girato assieme con lui. Quindi gli puoi dare anche delle dritte. Esatto sì comunque il fatto di avere l'occhio all'interno, di magari vedere qualche sbavatura, qualche robina. Può aiutare tanto. Esatto secondo me sì può aiutare. Beh il nome è tutta una garanzia però. È vero eh. Atomico come mai questo nome? Atomico perché io Tomio e quindi Andrea inizialmente era Atomio. Però ci abbiamo messo una C in più che non... C'è la C in più che è Cristina che è la mia compagna quindi Andrea, Cristina e Tomio e è diventato Atomico. Ah bella, bella cosa hai capito? Eh capito devo trovare un pilota così mi dedica il nome del team. No scherzo. Bene 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 sarà contento il tuo ragazzo che ci segue da casa. Vabbè ovviamente scherziamo, facciamo iniziare lui a andare in moto e siamo a posto. Ecco Andrea ma come nasce l'idea di avere un team di tua proprietà? Allora inizialmente nasce perché mi piace confrontarmi con qualcuno all'interno quindi appunto l'anno scorso Daniele era venuto a fare una gara proprio con la moto 4 dove appunto ricordava prima Bruno c'erano anche dei piloti di alto livello. E lì sai parti, vedi un pochettino, inizi a vedere che i tuoi consigli funzionano, che il tuo setup piuttosto che i rapporti piuttosto... Cioè c'è un mondo dietro davvero, sembra niente ma c'è dietro veramente tanto. E poi a me piace avere, forse che mi fa sentire sempre ragazzino anche a me, perché ragazzi un po' più giovani, mi piace aiutarli, mi piace stare insieme a loro. È un bravo istruttore Daniele. Assolutamente sì. Bene. Mi dà molti consigli per migliorare, mi insegna proprio perché sono nuovo in questo mondo qui, vengo da moto che non hanno tanti controlli sull'elettronica, queste cose qui quindi è fondamentale lui per imparare a... Ecco Andrea non insegnarli troppo bene perché... Ma già già ci siamo, ci siamo già, visto che corri insieme, ci siamo già. Bene bene bene, ragazzi noi andiamo un attimino in pubblicità, il nostro rientro ancora tanta moto estate e vi sveleremo tutti i trucchi di questa Super Ducati che abbiamo in studio, tra poco. Possiedi un immobile di grandi metratura a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Ekeo Luxury Real Estate al sito www.ekeo.it Ekeo, professionisti al tuo servizio. Diventa pilata per un giorno a bordo di fantastiche Ferrari e Lamborghini. Con il tuo sogno in pista potrai metterti alla guida di straordinarie vetture racing. Scegli la macchina che hai sempre sognato e provala nei circuiti più belli d'Italia. Collegati al sito www.iltuosogninpista.it e accendi la tua passione. Cosa aspetti a scendere in pista? Fai diventare il tuo sogno realtà. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti. Tutti incartati singolarmente. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche i live streaming in HD al sito www.gotv.org Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi è sempre con te. Dove e quando vuoi. Ancora tante due ruote e molta moto estate in questa speciale puntata di All Race TV. E oggi presente in studio, oltre al patron del moto estate Bruno Sandrini e al team manager della squadra Corsa Atomico, abbiamo anche un giovanissimo pilota. Lui è Daniele Galloni, alfiere proprio del team Atomico. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao, grazie. Eccoci qua, allora Daniele, adesso riflettori puntati su di te. Dal 2022 sei in seno al team Atomico del team manager Andrea Tomio, ma la tua avventura parte da lontano, seppur hai quanti anni, lo possiamo dire? Adesso ho 16 anni appena compiuti. 16 anni appena compiuti. La tua avventura parte dalle mini moto per poi prodare alle mini GP, per poi fare un'escalation tra la classe 300 e la moto 4. Ci vuoi raccontare un po' come nasce la tua esperienza? Esattamente, allora, inizia tutto quando avevo 5 anni e mezzo, che inizialmente avevo molta paura di dare le moto, perché mio padre appunto andava in moto, mi sono appassionato per questo. Grazie a lui. Grazie a lui, esatto. Ho iniziato ad andare in mini moto quando avevo circa 5 anni e mezzo, 6 anni, e da lì andavo in pista per divertirmi, successivamente a 8 anni ho iniziato a fare le prime competizioni nel campionato italiano con la mini moto. Sì. A 10 anni sono passato sulle mini GP, dalle mini GP ho vinto alcuni campionati, cioè vari campionati, tra cui appunto trofeo moto estate nella categoria mini GP 10 pollici 160, per poi passare sulla moto 4. dalla moto 4 appunto ho visto i risultati. Alla 300? Esatto, alla 300 e successivamente su questo gioiellino. Hai conosciuto poi Andrea Tomio e siamo arrivati ai giorni nostri. Esatto. Eh sì, e proprio l'anno scorso hai debuttato con il team atomico nella competitiva moto 4, dove in quel di Varano hai ottenuto un'importantissima vittoria. Ricordiamo tra l'altro erano presenti piloti molto importanti, tra cui Alex Delbianco, Luca Vitali e Kevin Manfredi. Raccontaci un po' com'è andata la tua esperienza. Allora, è iniziato tutto appunto con questa novità, ovvero questi piloti che venivano a correre appunto a Varano era, e Andrea ha deciso di chiamarmi per appunto fare questa gara. Allora ci siamo messi d'accordo, abbiamo iniziato prove libere, qualifiche, successivamente la gara, la gara è stata perfetta, diciamo. E' stata però veramente un'emozione, è stata un'emozione essere lì proprio, perché correre per me, che avevo 15 anni, correre contro dei piloti del genere è stata veramente un'emozione fantastica. Ma scommessa vinta anche per Andrea Tomio, penso, no? Sì, 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 ma infatti è un po' quello che diceva prima Bruno, che i ragazzi danno il 120%, perché a maggior ragione sapendo e avendo quell'unica possibilità di dimostrare, di poter stare anche, non per forza in questo caso sia stato davanti, è andata benissimo, ma anche stare lì, farsi vedere, essere lì vicini è già... Una grande palestra, come dicevamo prima. Nel 2023 per te, caro Daniele, ci sarà un altro salto di livello, di categoria, ossia approderai sempre nel Moto Estate nella categoria Open 600, in sella a questo bolide chiamato Ducati, naturalmente sempre gestito dal team atomico. Per te, insomma, l'obiettivo penso che sia quello di andare alla caccia del titolo. Assolutamente sì. Sei pronto? Siamo partiti da Valencia dove l'ho provata, lì è stato dove ho provato per la prima volta la Ducati, successivamente abbiamo iniziato i test a Modena, per poi andare a Varano, Magione, Misano, e poi tornare a Varano ancora appunto con il FND. Insomma, hai fatto l'inverno... Hai fatto l'inverno, no? Ho fatto l'inverno abbastanza intenso. Come giusto che sia. Eh beh, sì sì sì, per poi, se c'è la possibilità di girare un po', si arriva alla prima gara un po' più preparati. Certo. Sicuro. Ecco, qual è stata la prima sensazione che hai provato scendendo da una Moto 4 e salendo su una Open 600? Allora, sicuramente... La velocità. Sì, sicuramente la velocità, la potenza del motore, poi ci sono tante cose, come ho detto prima, per esempio l'elettronica, quindi controlli, trazione, antimpennamento, così che io sono nuovo in questo mondo. Certo. Infatti Andrea mi ha insegnato a usare, mi ha dato dei consigli su tutte queste cose. Voi l'abbassatore non ce l'avete? L'abbassatore no, 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 no. Però, insomma... L'abbassatore no, sì, quello per la partenza dice no, no, quello ancora no. Fortunatamente siamo ancora sul livello umano, dai. Ma meglio, no? Sì, sì, sì. C'è già troppo. Lo proibirei per regolamento. C'è già troppo. Ah, bravo, bravo Bruno, bravo. Se no si va su budget troppo elevati. Già così siamo a livelli... E ce l'hai già un po' anticipato, ma come ti trovi con il team atomico, Daniele? Io mi trovo assolutamente molto bene, perché oltre appunto a un aspetto tecnico veramente impeccabile, c'è proprio un ambiente familiare, quindi se magari sono in difficoltà, non escono i tempi, o se no c'è la moto che ha un qualche problema, così loro sono sempre... Ti tendono a basto l'altro. No, 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 secondo me. Risolviamo così. Andrea? Andrea secondo me vorrebbe farlo, però... No, scherzo. No, è bello, esatto, è quello. Cioè mi aiutano proprio, cercano di non farmi troppo agitare. Non metterti troppo a pressione. Bene, ecco Andrea, oggi ci hai portato proprio un bel gioiellino qui all'interno dei nostri studi televisivi di GoTV, questa Ducati che come detto prenderà il via nel campionato moto estate per questa stagione 2023 dal circuito di Varano tra pochissimi giorni. Allora Andrea, ci vuoi dare un po' di aspetti tecnici che i nostri telespettatori sicuramente ti diranno grazie poi? Assolutamente. Allora, questa è una moto, diciamo, una categoria si può dire nuova, non è nuova la 600 Open, ma è nuova questa tipologia di moto, perché vado a spiegare. In realtà è una moto che intanto è un bicilindri con un quattro cilindri e è un po' più grande di cilindrata, quindi è una 955 limitata per poter correre nelle 600. Quindi c'è intanto questa differenza e questa nuova categoria si chiama Big Super Sport. Chiaramente corre all'interno della 600, alcuni fanno classifica separata, altri no, però in effetti sono molto pareggiate perché ho corso io proprio l'anno scorso e mi trovavo assolutamente in linea con le 600, quindi è una cosa sicuramente azzeccata. Andrea, quali sono i servizi che offre il team atomico? Allora, i servizi che offre è, allora, di base siamo partiti anche con Bruno e tutto, facevamo noleggio moto, assistenza, quindi l'assistenza tecnica, l'assistenza in pista. Io poi ho fatto per tantissimi anni, lo faccio ancora, sono istruttore di guida e quindi ho sempre fatto questa parte qua. Non mandarmi frecciatino, io guido benissimo, moto, macchine, biciclette. E quindi insomma offriamo un po' tutto il pacchetto dall'amatore che non ha nulla per poter venire in pista, quindi viene giù semplicemente con la sua automobile, addirittura quasi senza abbigliamento, possiamo anche fornire l'abbigliamento, le moto, le moto vanno da tutte, adesso vediamo questa che è il top di gamma, ma abbiamo delle moto che partiamo dalle 250, 300, 400, 600 fino alle 1000 e abbiamo tutta una vasta gamma dove chiaramente cambiano, in base esatto all'atologia. Certo, quindi potete accontentare da un Daniele Gallone. Esatto, dal pilota che vuole andare a provare a vincere un campionato all'amatore che dice voglio provare a vedere cosa succede se vado a girare in pista, come faccio, come non faccio. Bene, quindi insomma un team atomico che per chiunque potesse essere interessato a mettere il sedere anche per la prima volta su una moto vi può accontentare oppure se c'è qualche pilota che magari è a piedi con un team, il team atomico può fare... Quest'anno siamo a piedi. Ecco, quindi per il 2024 probabilmente ci sarà spazio per voi. Ma io tornerei da Bruno in quanto è arrivato il momento caldo della trasmissione, dobbiamo dare tutte le news 2023 sul trofeo Moto Estate. Sappiamo che ci sono delle new entry in casa Moto Estate a livello di categoria come la Twins Cup e la Moto 4. Sì, assolutamente. La Twins Cup è una novità assoluta e andiamo a precedere il campionato del mondo. Fino adesso in Italia ci sono solamente due trofei monomarca legati all'Aprilia e a Yamaha, quindi alla 6-60 aprile all'R7. Noi, come la nostra tradizione, vogliamo mettere in competizione le varie case costruttrici, quindi insieme ai due modelli di serie che avranno assolutamente la disponibilità di un regolamento open, quindi spazio ai preparatori, quindi spazio soprattutto alla meccanica, perché due moto molto economiche dove l'elettronica è molto, molto, molto limitata, verranno affiancati dai preparatori che già lavorano da parecchio tempo sui progetti Suzuki 650 piuttosto che Kawasaki. L'anno scorso è da voi chi ha vinto il campionato a livello di costruttore? Noi non abbiamo la classifica costruttori, non abbiamo la classifica costruttori perché appunto essendo un trofeo… Però il pirata che ha vinto che moto aveva? Il pirata che ha vinto la classe 1000 aveva una moto sperimentale su base Ducati, motore Ducati, ma un piccolo cavolo lavoro di ingegneria della GPM di Piero Gianesin che è uno degli ultimi costruttori rimasti di motoprototipo che ha fatto questo gioiello molto meno potente delle altre moto ma molto più guidabile e quindi in sella ad un vecchio marpione come Bartolini ha dominato il campionato. Beh ci sono anche comunque degli ingegneri nella vostra serie. Assolutamente, consideriamo che parlavo di questa persona, parliamo di un preparatore che ha fatto un pezzo di storia del mondiale superbike, dalle moto di Frankie Kili alle moto che utilizzava, che ne so, Juan Borca, Marco Borciani, Ruben Chaus, quindi un signor preparatore ecco. Ecco a parte queste due new entry, tutte le altre categorie confermate? Tutte le altre categorie sono state confermate con le novità che seguono il mercato, abbiamo cercato di dare più spazio a questa categoria, la moto 4, che è quella che noi vogliamo nel prossimo futuro spingere perché la riteniamo l'unica vera porta d'ingresso per i giovani nel mondo delle competizioni, moto economiche, moto di facile gestione, puoi venire con il papà alla moto caricata sul carrello e correre, non hai bisogno di grandi regolazioni. Bene. Ma dove si correrà quest'anno Bruno? Ora confermiamo il calendario della passata stagione, quindi correremo sugli autodromi di Varano dei Medegari in provincia di Parma, sull'Appennino, correremo due gare, apriremo appunto la stagione lì tra sostanzialmente una settimana, dopodiché ci trasferiremo sull'autodromo di Cremona, andremo poi a Magione, quindi in Umbria e poi si torna indietro e quindi di nuovo Varano e Cremona. Bene, 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 quindi un bel calendario ricco, fitto. Ti do un'ultima novità. Vai. Ci stiamo lavorando, approfitto del tuo invito per annunciarla perché l'obiettivo di quest'anno sarebbe chiudere la stagione con una one shot dove invitare i vari protagonisti dei trofei nazionali fuori dall'Italia. Bene, 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 bene. E ricordiamo, gare trasmesse in differita in tutta Italia sul canale 68 del Digitale Terrestre, quindi seguiteci, mi raccomando. Bene, quindi partnership tra noi di GoTV e Moto Estate riconfermata, quindi potrete gustarvi tutte le gare di questi scalmanati in prima serata, la domenica sera, il weekend, la domenica dopo del weekend di gara. Per noi è un grande onore perché l'anno scorso abbiamo fatto il pieno di telespettatori, grazie a voi. Bene, per questa puntata è tutto, io vado solo a dare i contatti del sito, anzi te li faccio dare a te Bruno. Assolutamente, il nostro sito è www.trofeimoto.it e dopodiché ci si può seguire sui nostri social, appunto le pagina del Moto Estate, sia Instagram che Facebook. Bene, io vado a ringraziare tantissimo Bruno Sandrini e buon inizio di campionato. Grazie e grazie a voi per averci invitato questa sera e per aver rinnovato la partnership con noi. Andrea Tomio del team Atomico, ti aspetto un 2023 ricco di appuntamenti. Assolutamente, grazie, grazie a voi. Io devo ringraziare, anche che non l'ho detto prima, il grande supporto appunto di Ducati Varese e delle concessionarie Castellanze e Ducati Varese che ci stanno dando una grossissima mano con le moto. Voi come team siete della zona, giusto? Sì, sì, sì. Bene. Assolutamente. E poi vado a ringraziare e ti faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo per questa stagione 2023 a Daniele Galloni del team Atomico. Grazie mille, grazie a voi. Cosa ti aspetti dalla prima gara? E deve vincere. Poca pressione. Allora, l'obiettivo sarebbe quello, però vediamo. Vediamo cosa succede. Vediamo, vediamo. Grazie mille alla nostra Raider. Grazie a voi, buona serata. Voi non cambiate canale, ragazzi, rimanete su queste frequenze. Grazie per averci seguito. Ciao. Ciao, ciao. Questo programma è offerto da Echeo, investimenti immobiliari.